OOOH! Ma la cera non è così! OOOH! Ma la cera non è così! Che è il suo giocatore, come l'incipazione di Stato! D'accordo! Che è la mia pulminaria? D'accordo! 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 Voluta! Conquistata! E Serie A Lecce! Torna a splendere! Nella massima categoria! Il sole giallorosso del Salento! L'ultima giornata! Dopo tanta paura! Arriva! La salvezza! VATERA! 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 VATERA!